La fattoria in città, un'oasi verde che ospiterà a partire dal 5 luglio numerose attività e iniziative di educazione ambientale finalizzate ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Si chiama Propolis ed è una nuova fattoria didattica situata all'interno del Parco del Nobile, un parco comunale che si estende per 106.900 metri quadrati sulla collina di Torino a pochi minuti dal centro cittadino. Le proposte spazieranno dalla coltivazione nell'orto didattico alla cura degli animali, asini, pecore, conigli, galline ed api, collaboratori creativi, passeggiate nel bosco e giochi nel verde. Il progetto della fattoria si pone l'obiettivo di far conoscere ai torinesi, ai turisti e agli studenti i profumi, i sapori e i colori del territorio attraverso iniziative didattiche, culturali ed enogastronomiche. Propolis è un vero e proprio villaggio composto da un ristorante, da un'enoteca in collaborazione con Ambrosia Vini e un bar, dalla geletteria Agri Fiorio e al laboratorio didattico La Casa del Miele. Come si arriva a Propolis? Da Piazza Crimea per rendere per Viale Tovez fino alla piazzetta Adua dove c'è un bivio. A sinistra prende la strada del nobile, subito dopo la sede di Agri Forest, sulla destra trovate la fattoria didattica. Abbiamo dei percorsi all'interno del bosco, abbiamo dei percorsi dove si possono incontrare tutti i nostri animali, dalle pecore alle capre, agli asini, alle galline, ai conigli e c'è all'interno sempre di questo parco un osservatorio che guarda direttamente sulle arnie. Quindi i bambini possono, con i nostri operatori, guardare proprio tutta la lavorazione sui telai, individuare la peregina, avere tutta una serie di indicazioni sul mondo dell'apicoltura e delle api. È un parco di circa 11 ettari, sempre proprietà della città di Torino, dato in gestione all'Agri Forest, quindi noi garantiamo la manutenzione di tutto il parco. E questa concessione ha una durata di 30 anni e quindi siamo qua per 30 anni più o meno. Grazie a tutti.